Troppi casi di coronavirus e così chiude la scuola media di soci a comunicarlo il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli. Dopo i due casi degli alunni di prima e quello dell'insegnante, a seguito di circa 35 tamponi, sono infatti adesso emerse ben 16 positività. Quindi il totale delle persone positive tra alunni e docenti alla scuola media di soci in questo momento è di 13 alunni positivi, di cui 3 sono a bassa carica e 3 docenti positivi di cui uno ha a bassa carica. Quindi in totale a scuola media di soci sono state riscontrate 16 positività. Oltre a questo però c'è una sorpresa purtroppo anche alla scuola elementare perché alcuni dei tamponi effettuati, dei contatti degli alunni positivi erano anche nella scuola elementare sempre di soci e sono state riscontrate due positività anche alla scuola elementare di soci, due alunni non docenti. Quindi la decisione ci sembrava abbastanza scontata in questo momento, ovvero di chiudere per questa settimana, almeno per questa settimana, la scuola media di soci. Quindi al momento la decisione è questa, chiusura della scuola media di soci, anche perché, lo ricordo, tutti i compagni di classe dei bambini positivi o dei professori positivi sono automaticamente in quarantena. A questo punto mi sembra anche per in più dover ribadire che serve il massimo impegno da parte di tutti nel rispettare le regole e soprattutto, a questo punto, soprattutto anche per le fasce di età più giovani, tutto ciò che è possibile evitare va evitato. Assembramenti inutili, ritrovi a casa di amici con tante persone e tutto quello che vogliamo.